Notte di violenza a Vigonza, nell'Alta Padovana. Due bande di giovani si sono affrontate in un piazzale di capriccio, da una parte stranieri, dall'altra italiani. Potrebbero essere state una quindicina di persone che se la sono date di santa ragione. Era notte fonda quando i carabinieri hanno ricevuto l'allarme e sono accorsi sul posto. All'arrivo degli uomini dell'arma i due gruppi si sono sciolti e sul posto sono rimasti solo i feriti per i quali è stato necessario l'intervento del pronto soccorso. A rimanere feriti dopo essere stati picchiati brutalmente due ragazzi italiani. Ad alterare gli animi potrebbe essere stato l'alcol che potrebbe aver fatto degenerare una lite nata per banalità. Saranno i carabinieri a fare chiarezza.